All'articolo 18 punisce con la reclusione da 4 a 8 anni il diritto di procurato aborto e che la pena è quella della reclusione addirittura da 8 a 16 anni se dal fatto deriva la morte della donna. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omicidio volontario della donna in stato di gravidanza concorre con quello di procurato aborto che non costituisce quindi una norma speciale. Analogamente, la condotta diretta a sopprimere il prodotto del concepimento, dice la norma, se posta in essere dopo il distacco del feto dall'utero materno, configura comunque il diritto di omicidio volontario proprio ai sensi dell'articolo 575 e 577 del nostro codice penale. C'è un impianto normativo abbastanza rigoroso che ovviamente potrà essere ulteriormente aggravato con specifiche iniziative del Parlamento che noi guardiamo con grande attenzione. Grazie, sottosegretario Di Filippo. La deputata Costantino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego, onorevole. Sì, grazie, signora Presidente. Se avessero ucciso mio figlio o gli avessero procurato malformazioni permanenti o se mi avessero sfondato la vagina, come è successo, o se l'avessero sfondata a sua moglie, sottosegretario, a sua sorella, cercando di occultare tutto, come è stato fatto, sarebbe stato soddisfatto della risposta che mi ha appena dato? Io credo di no. E io non sono soddisfatta. Perché esiste il lavoro della magistratura, ma esiste il lavoro della politica. E la risposta che ho appena ascoltato è del tutto insufficiente. Ci sono territori che necessitano di maggiore attenzione. E non si possono apprendere casi di questa gravità dai giornali, come lei ci ha appena detto in quest'Aula. Reggio Calabria è stata la prima città capoluogo ad essere sciolta per mafia. Sappiamo come le mafie, l'ha detto anche lei, sono presenti dentro la sanità pubblica. Vedremo se l'andrangheta c'entra qualcosa con tutto quello che è avvenuto nell'ospedale riuniti di Reggio Calabria. Ma una cosa è certa. In un ambiente così a rischio, il Governo, e quindi non solo la Regione, ha maggiori responsabilità. Qui si intrecciano varie questioni. Da una parte c'è la corruzione, il malcostume. Le intercettazioni che abbiamo letto in questi giorni sono da brivido. Medici che si raccontano quello che hanno fatto e che ridono mentre se lo raccontano. Cioè ridono e gioiscono del fatto di avere sfondato una vagina, di vedere il sangue zampillare, di avere fatto manovre sbagliate sui bambini, di avergli procurato queste malformazioni. Le cose di una gravità inaudita che non permettono di dormire la notte se poco poco si pensa che appunto queste cose possono avvenire a persone vicine a noi. E dall'altra parte c'è un sistema sanitario totalmente deficitario e non lo scopriamo oggi purtroppo a causa di un caso così enorme e così grave. Le donne tra l'altro sono quelle che in assoluto pagano maggiormente le conseguenze di questo sistema. Non ho sentito una parola sull'ampliamento, per esempio, del sistema sanitario in una città come Reggio Calabria. Non ci sono consultori, non esistono punti nascita, niente che vada incontro alle proprie esigente. In una città in cui praticamente nessuno denuncia, fortunatamente c'è stato qualcuno che l'ha fatto, che ha avuto il coraggio di non abbassare la testa. Grazie alla denuncia sono partite le indagini e quindi noi arriviamo sempre dopo, sempre e comunque dopo della magistratura. E il debito che abbiamo nei confronti di queste donne è doppio. Uno per il torto che hanno subito, per il danno estremo che hanno subito, e poi per il coraggio di non aver subito in silenzio. E questo non è un aspetto di poco conto. Allora la risposta deve essere all'altezza davanti a tutto questo. E secondo me non lo è stato, come forse non l'è stata nemmeno quella del comunicato che ho letto dell'Ordine dei Medici di Reggio Calabria, che erano così preoccupati a dover difendere la propria categoria da non spendere nemmeno una parola per le vittime che hanno subito tutto questo. Siamo in presenza di uno stato d'eccezione e quando si è davanti ad uno stato d'eccezione si deve rispondere con degli strumenti straordinari. Non si può rispondere con un'ordinaria amministrazione. Non si può rispondere con dei tagli, ma bisogna rispondere con degli impegni seri. E quello che ho ascoltato è solo una minima parte di quello che invece la complessità di quel sistema avrebbe bisogno. Io mi auguravo che ci fosse, chiaramente non voglio mancare di rispetto al ruolo del sottosegretario, però speravo che ci fosse la Ministra Lorenzino oggi perché, se come ci è stato detto, si è appreso con sgomento dai giornali di questa situazione, forse anche la dignità di dare una risposta che in questo momento non è una risposta a sinistra italiana, non è la risposta alla parlamentare Celeste Costantino, ma è la risposta appunto a queste vittime e a tutti i cittadini e le cittadine calabresi che in questo momento hanno paura di andare in un ospedale, hanno paura di farsi curare, hanno paura di denunciare, perché probabilmente denunciare può anche significare venire perseguiti da forze diverse da quelle che invece ci dovrebbero difendere. Quindi io non solo non sono soddisfatta, ma penso che oggi non abbiamo dato, nemmeno sul piano simbolico, la giusta risposta che la politica invece deve dare ad una società civile. Grazie. Prima di passare alla successiva interpellanza, ammesso che arrivi il rappresentante del Governo, salutiamo gli alunni e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale Buttigliera Alta Rosta di Buttigliera Alta in provincia di Torino che stanno assistendo dalla tribuna ai nostri lavori. e solo che il Ministro Galletti non è qui e quindi siamo costretti ad interrompere per qualche minuto. Era stato annunciato in arrivo. Sospendiamo la saluta per cinque minuti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.